C'è anche un manifesto dietro a tutto questo, scritto allorquando creammo il Centro Contemporaneo delle Arti, fu percepito come un manifesto che poi presentammo a Firenze, al Caffè Letterario Giubberosso, dove è nato il futurismo, veda come tutto ritorna, all'Accademia di Belle Arti di Brera e a Edimburgo presso la Central Library. Quindi ci sono tanti temi e motivi, tante cose realmente affascinanti dietro a questa costruzione di questo piccolo grande movimento che crediamo possa diventare sempre più grande.